Consolini, oggi per noi è un giorno davvero importante perché per la prima volta un'azienda di videogiochi ha deciso di collaborare con noi Noi ne siamo davvero felicissimi e speriamo che questo renda felice anche voi Esattamente, per noi è un'opportunità davvero gigantesca perché se riusciamo ad affacciarci con le aziende di videogiochi ragazzi avremo tantissime possibilità in più con il canale Quindi speriamo davvero che sia una cosa che appreziate, noi ne siamo davvero davvero felici e decisamente felici di portare un gioco come questo Perché devo dire che è davvero carino, praticamente abbiamo un esercito di gattini e dobbiamo conquistare il mondo con questi gattini E io dico, cosa si può volere di più di un esercito di gattini? Questo gioco è davvero fantastico, l'abbiamo già provato ovviamente, ci piace tantissimo quindi speriamo che piaccia anche a voi Buona visione Noi usiamo questo potere Ce lo sta dando gratis Goditi la scena È la cosa più bella del mondo Goditela Non ci credo Ma poi Dio con la faccia da gatto non si può vedere, te lo dico Ragazzi come va? Io sono Ferinichi Eccoci qua prontissimi a comandare il nostro esercito di gattini, ebbene sì proprio Siamo sicuri? Sì, sì, sì Io non mi sento pronto Guardate che belli che sono, guardate che belli So che stai attendendo una cosa del genere da quando sei nata Allora, tutti i consolini sanno che io sono la regina di animali, quindi è anche giusto che adesso mi venga dato un esercito vero e proprio di gattini Questo è il tuo primo gattino Sì Ciao gattino Stiamo andando ad attaccare la Corea con questo gattino, sei pronta? Perché la Corea però? No, si parte dalla Corea e poi andiamo in tanti posti del mondo Ah beh, certo, perché noi quei gatti conquistiamo il mondo vero e proprio Esatto Ok, vai, prontissimi Allora, spieghiamo davvero, a partire gli scherzi semplicemente il gioco, ce lo sta spiegando anche il gioco stesso Praticamente noi accumuliamo soldi in alto a destra e quando abbiamo 50 possiamo mettere un gattino Quindi clicchiamo così, guardate vi faccio vedere, ecco qua Noi evochiamo il nostro gattino e questa qua adesso è la nostra base, quella a sinistra è la base che dobbiamo distruggere Quindi dobbiamo evocare costantemente dei gattini e cercare di battere i nostri nemici Qua a sinistra, in basso in basso, e infatti ciò sto dicendo, proprio adesso abbiamo un'iconcina che se premiamo aumenta i soldi che facciamo al secondo Quindi se noi investiamo un sacco di soldi così, riusciamo a fare molto più esercito di gattino in fretta e di conseguenza ad attaccare meglio Vai, mandiamo il secondo gattino Che bella spiegazione, sei stato bravissimo, mi è piaciuto un sacco, guarda sono già infogatissima, non vedo l'ora di continuare Secondo me non stai gestendo proprio benissimo perché hai pensato un po' troppo ai soldi e abbiamo solo un gattino Eh cara mia, ma tu E scusa, non lo stai facendo molto bene, io avrei puntato più a fare un po' più di gattino E infatti tu non sei Steph, ok? Adesso ti faccio vedere Ora ti faccio vedere cosa vuol dire Allora, io sono tranquillo, ci stanno invadendo, no? Siamo praticamente morti Peccato che abbiamo questa Oh mio Dio! Morti tutti E noi però adesso quanti soldi facciamo rispetto a loro? Ci sei? Capito la tattica? Sì, sì, certo che sta Praticamente la vedi in basso a destra, si accumula piano piano Quando quella è accumulata al massimo puoi tirare sto raggio Quindi conviene pensare prima di tutto alla produzione dei soldi, poi usi il raggio e fai il contraattacco Ok Con la differenza che tu ovviamente fai molte più truppe dell'avversario perché hai accumulato i soldi Ma sono molto intelligenti sti gattini, bisogna gestirli bene perché altrimenti poi non equilibri bene gattini e soldi Eh, ed è un problema Ok, avere l'esercito di gattini ma anche che ti portano un bel po' di soldi, sai com'è? Guarda i gatti stanno iniziando a mangiucchiare la torre avversaria Adesso inizia l'assalto Bravissimi! Continuiamo a mandarne per dare una mano Ma non sono fantastici quando morsicano, cioè sono la cosa più bella che io abbia mai visto Perché fa la faccia carina però poi guardalo Esatto, è come me, capito? Io sembrò carino e dolce però poi quando c'è da attaccare distruggo tutto Si vede proprio che sono i miei gattini questi, cioè li ho addestrati bene e sono molto fiera di loro In realtà li sto comandando io Perché tu sei un mio schiavo, capito? Quindi tu dirigi l'esercito perché sei Sono il generale di guerra? Allora, stai benissimo che i re quando comandano un esercito mica vanno in battaglia I re migliori ci andavano in battaglia Io non sono un re migliore, sono un re che se ne sta a guardare, ok? I propri gattini combattere Sì, siete bellissimi, vi amo tanto Va bene, va bene Vittoria! Yes! Bravi, 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 bravi Ovviamente, se ve lo state chiedendo, questo era il nostro primo gattino Adesso, con i punti esperienza che abbiamo fatto Possiamo sbloccare il secondo gattino Wow! Come sarà? Io non lo so Questa è la cosa più importante di questo giochino Ok! Praticamente qua abbiamo gli upgrade Quindi possiamo decidere che truppe, che gattini potenziare O se imparare ad averne uno nuovo Ad esempio, questo qua è il tank Uh, tank! Uh, tank! Guardalo! Sei già arrabbiatissimo, sei troppo bello! Adesso? Ma aspetta, ci sono i cannoni! Io sto impazzendo, ci sono truppe cose belle qua! No, no, queste sono la nostra torre che puoi potenziare, eccetera, eccetera Ma io pensavo di avere un gatto cannone I gattini li sblocchi piano piano Tranquilla che la terza truppa dei gattini Mi fido! L'adorerai Ok Te lo dico già Dicevo, qua abbiamo una scelta da fare Possiamo potenziare solo uno dei due Perché abbiamo mille di esperienza Servirebbe mille e cento per entrambi Ok, perfetto Vuoi potenziare i gattini normali o i gattini tank? Quindi quelli più resistenti I gattini tank Sicura? Dai, ma non li proviamo, sì Ma vabbè, li usi a priori Però ce li hai più forti o meno forti, capito? Ah, ma li usi entrambi? Sì, certo, certo E adesso siamo in Mongolia Guarda che bellina ha la loro casetta No, ma è carissima Sì, la nostra è sempre uguale Allora, quindi Steph ti ha insegnato la tattica Quindi cosa facciamo noi adesso? Ok Ok, cosa? Facciamo un gattino No Poi i soldi Aumentiamo la produzione di soldi E poi facciamo i gattini Quindi adesso mandiamo il primo gattino Guarda il loro serpente Hanno anche serpenti ora? Sì, perché come noi abbiamo la seconda truppa Ce l'hanno anche loro Ok Ok, noi praticamente, vedi Mandiamo qualche gattino Senza esagerare Ci difendiamo tenendo abbastanza la linea Ok, sto capendo, sto capendo Stiamo accumulando, vedi La nostra abilità speciale Vabbè, giusto Tu sei il consigliere della regina dei gattini No, io sono l'unico intelligente qua Diciamo come stanno le cose Stanno morendo Fai attenzione Sono forti È giusto così Si devono sacrificare Ho potenziato I serpenti fanno malissimo Ancora i soldi Sì, i serpenti sono fortissimi Però noi adesso PUM Tutto in una volta E adesso parte il contrattacco Guarda la nuova truppa Siete bellissimi Sono sempre più belli Cioè non è possibile Guarda, eh Guarda come attacca SPIM SPIM Ma io lo voglio nella realtà Dammelo, ti prego Il gatto che attacca testate Questo è il gatto di Fereniki Tu ti chiamerei il gatto di Fereniki Perché anch'io adoro dare le testate Siamo proprio anime gemelle Perfetti per stare assieme Ma che cosa stai dicendo? Tu comunque non mi avevi avvertito Che questo era il gioco della mia vita Cioè stai Scusami Allora Cioè Allora voglio spiegare Non riesco a dirlo Perché sono troppo gasato Ok? Ok Cioè praticamente Tantissima dolcezza e tenerezza In questi gattini Però poi quando c'è da combattere Diventano davvero dei carri armati Incredibili Cattivissimi Ma allora Quando io ti ho detto Dobbiamo fare un gioco Dove il tuo esercito Sono dei gattini Pensavo ti bastasse già quello Per capire che era il tuo gioco preferito Che bello Proprio mi sento a casa Questo gioco mi fa sentire a casa E non è una cosa normale E la Mongolia L'abbiamo conquistata Con i nostri gattini Che danno le testate Che belli che siete Vi adoro Vittoria Non mi ricordo Se adesso ci dà la terza truppa O se ce la dà Alla prossima partita Però in ogni caso Abbiamo 1600 Per potenziare ciò che già abbiamo Io personalmente Ok E questa secondo me È una scelta un po' rischiosa Potenzierei di nuovo l'oro Dici Vabbè sono belli Zaccano delle testate Che davvero te le sogni Fino a due mesi dopo Vero Quindi sì dai Dai andiamo La muraglia cinese La muraglia cinese Sì Per di più non so Se hai notato Che questa volta Siamo più distanti Sì ho notato Cambia fisso Questo non è proprio Che più avanti Più sei distante È proprio una cosa Che cambia costantemente Ovviamente Solita tattica Che Feriniche ormai Avrà imparato Quindi soldi Esatto E fregatini Soldo 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 E poi inizia fregatini Un po' rischiosa Come tattica E guarda Loro hanno già Cinque persone Che ci stanno mandando all'assalto Forse stavolta La mia tattica potrebbe Non funzionare Gattini Difendeteci Gattini Forza Ce la potete fare È che il problema È che quel serpente È fortissimo E gli sbalza pure indietro Capite È fortissimo Non è giusto Che loro hanno un serpente Vai Ottimo 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 Adesso rimasti solo due Che sono gestibili Contrattacco Allora a questo punto Noi abbiamo fatto un attacco Che è molto forte Ok Ma secondo me non basterà Per distruggere la loro bella muralia cinese Perché sono abbastanza forti Quindi adesso Noi pensiamo solo di nuovo A potenziare i soldi Ok Quando più o meno Il nostro primo attacco È distrutto Facciamo il secondo Talmente potente Che è inarrestabile Giustissimo Ok Votate È forte Ce la fa O non ce la fa Secondo me no Secondo me vengono ammazzati prima Ce la fanno Dici Ce la fanno Sì me lo sento Tu ci stai credendo tantissimo Perché io È quello delle testate Siamo in sintonia E sono sicura che ce la fa Ok Stiamo a vedere No È morto Ma proprio tu non dovevi morire Però adesso Non farmi fare figuracce È morto Ah no Avere la fiducia di Fereniki Però guarda in basso a sinistra Siamo arrivati al massimo Dei soldi che si possono fare Ottimo Ora inizia il contrattacco Di Steph e Fereniki Adesso è andato Non possono competere Sì 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 ovviamente Ovviamente Non possono competere con noi Adesso c'è la nuova truppa Oh davvero Sei pronta? Sì Allora guarda C'è un nuovo gatto Te lo dice anche lui Sei bella quasi quanto Quelle delle testate Sono già prontissime Secondo me è più bella Ok A me piace di più Sono pronta Ta Che cos'è? Che cos'è? Cosa sarà mai? Guarda Oh mio dio Guardalo È un gatto vichingo Questo Con lascia Gigantesca Allora Forse ti abbandono Gattino con le testate Forse diventa lui Il mio preferito Allora per adesso Te lo potenzio Così lo vedi E poi ti potenzio Anche quelli normali Ottimo Così livello 2 Livello 3 Livello 2 Guardalo Guardalo Sei pronta? Si sono un attimino Concentratata Spam 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 E ovviamente sono abbastanza Alla pari Perché sono la truppa Super potente anche loro Però Guardalo Quando ammazza quelli normali Mi dispiace per l'esercito nemico Ma il nostro gattino vichingo È molto più bello Cioè questi tre omini Non rendono Non sono diciamo Alla pari della sua figaggine Te lo dico Sono d'accordo Sono d'accordo Guarda Guarda come picchia quelli normali Boom 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 Sta andando dritto da solo Si 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 Sei bellissimo Oh no Non c'è più Ogni volta che fai complimenti a qualcuno Qualcosa schiatta Porterò sfiga Ma proprio molta Ma lasciati in pace i nostri gattini Eh vabbè Però c'è anche da dire che ha fatto molto Prima di Di morire Ovviamente non è che può resistere all'infinito Eh sarebbe stato meglio Sarebbe stato meglio Allora Potenziamo al massimo i guadagni E adesso inizia l'esercito Che ci farà conquistare il mondo Ne abbiamo due con lasciali in mezzo Non hanno speranza di sopravvivere Guarda come iniziano a spaccare Guarda con che velocità Bam 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 Ciao Ciao Thailandia Ci rivediamo più avanti Le vostre truppe non sono niente in confronto alle nostre Mi dispiace Guarda Andata Mi dispiace Finito Anche questa E un'altra vittoria per Steph e Ferinichi 1900 di esperienza Ovviamente nessuna nuova truppa Però adesso devi decidere Vuoi potenziare le testate O quelli con lascia Quanto costano quelli con lascia? Molto vero? Eh Immagino sia tantino Perché essendo forti 1800 Dai facciamo un livello Loro li portiamo tutti e due al 3 Ok E poi forse anche quelli base Che comunque li usiamo Io poi un potenziamento in più glielo darei Te lo dico Ma ci può stare Ci può stare Vediamo un pochettino cosa fare Effettivamente Si potrebbe anche fare Dove ci tocca andare adesso? Dove andiamo di bello? Vediamo Dove finiamo? In Cambogia E adesso Abbiamo la nuova truppa Ok Fin qua lo vedi E dici Che ha di strano? Ha delle gambe lunghe? E anche le braccia Perché? Lunghissime Lunghe 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 Cioè qui di combatto a distanza Tipo pump Si Fa proprio delle Lo vedrai No lo voglio vedere Lo voglio vedere Ma non è la novità più interessante Di questo round Perché Ci siamo sbloccati Dio Gatto Dio Dio gatto Ma c'è anche il ninja cat Bellissimo Eh sì ma quello costa 50 di food Cosa fa Dio? Cioè fa un po' paura da questa foto Ti dico la verità È un po' inquietante Sono molto curiosa di vedere cosa fa Adesso te lo mostriamo Adesso te lo mostriamo Dove stiamo andando ad attaccare? In Giappone Giappone Vai vai Andiamo Con il nostro gatto Attacchiamo con i terremoti No Scusa 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 Non volevo dire Era terribile questa Lo so Vedi? Ok Sta Vuoi vedere cosa fa? Lo vedi dov'è? Sì Vedo che in alto È una specie di sole Maligno Tu lo clicchi Ce lo farò usare solo una volta Perché altrimenti costa Cibo per gatti Che purtroppo Non è facile Facile da fare Ma comunque ne avremo l'occasione Ok Noi Usiamo questo potere Ce lo sta dando gratis Giustamente Goditi la scena È la cosa Questa cosa Più bella Del mondo Goditela Non ci credo Ma poi dio Con la faccia da gatto Non si può vedere Te lo dico E quindi adesso Adesso abbiamo soltanto i soldi al massimo Ma che brutto Te l'avevo detto che era brutto lui Non abbiamo neanche Sembra di quelli Ce l'è presente nel circo Quando usano Guarda Quando usano i trampoli Guarda come attacca Guarda E gli stende con un colpo E non lo fermi lui Dall'alto Delle sue gambe Delle sue braccia Lui non vede nulla Da solo cefoni Guarda la vita del Giappone Comunque 2400 Mamma mia Però Bella la loro casa Però è Bella Che L'ippopotamo Mi ero dimenticato che esiste Stai tranquilla Ma che brutto Sbalza tutti Vai Dall'icefoni Tu che stai lì in alto È molto potente Bisogna stare attenti Infatti ci sta facendo fuori Un po' di quelli con l'ascia Non va bene È forte È forte Aiuto Il nostro alto alto Sta un po' dormendo Non farti colpire Picchia Inizia a essere molto difficile Picchia Tranquilla Ferinicchi Dice albero io Tranquilla Ferinicchi Ho delle gambe lunghissime E quindi colpiscono Lontanissimo Anche l'ippopotamo Ma che sono felice di colpire Però l'ippopotamo Mi fa un po' male È una tazza Qualcuno la potrebbe incidere Vi prego Ma quanto è forte Quanto è forte Finalmente Cioè se ne spunta un altro Guarda che difficilissima Infatti dobbiamo cercare di finire Prima che ne devi un altro Dai Certo Abbiamo due di quelli alti E uno con l'ascia che arriva Dovrebbero bastare Per concludere qua la partita Forza 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 l'assalto finale Comunque hai capito Caffa il dio No Ti toglie per un minuto Il cooldown delle truppe Quindi le puoi fare all'infinito Allo stesso tempo Ti manda immediatamente I soldi a otto Eh vabbè Ok Allora ci credo che costa tanto cibo Perché comunque Era uno dei suoi poteri Sì ho visto che ce n'erano altri Ne aveva altri quattro Ne aveva altri quattro Molto interessanti Vero E abbiamo conquistato anche il Giappone Comunque io immaginavo Che ci sarebbero state Solo truppe da sbloccare Invece questa è proprio una cosa Esterna Che ti aiuta nella partita È fighissimo Come l'hanno fatto Ci fermiamo così Perché questo video Speriamo davvero Che l'aviate apprezzato Continuiamo a dire appunto Che siamo felicissimi Di questa opportunità Perché ragazzi Davvero Ci permetterà Di avere tante occasioni in più Di poter organizzare Tante cose in più Tanti eventi E poter avere contatto Con sviluppatori di giochi E quindi E quindi è proprio figo Beh ragazzi Vi lascio così Se ci sono già Stateci un bel like E questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!